Un neonato è morto in sala parto all'ospedale di Locri, un dramma che si è consumato nei giorni scorsi e che ha lasciato tutti nello sconcerto e rispetto al quale ora sono in corsi necessari approfondimenti. La famiglia infatti ha presentato denunce ai carabinieri che ha portato la procura di Locri ad aprire un'inchiesta al momento senza indagati. La salma e la documentazione sanitaria sono state poste sotto sequestro per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti del caso. Un dolore profondo e una tragedia immensa per i genitori, difficile anche solo da immaginare. Adesso è tutto nelle mani della magistratura. Saranno le verifiche medico-legali a chiarire le cause del decesso del neonato. Questo tragico evento richiama nuovamente l'attenzione sulle questioni cruciali legate alla sicurezza e alla qualità dell'assistenza sanitaria nella Locri. All'ospedale Spock di Locri è il secondo caso di presunta mala sanità da inizio anno dopo la morte avvenuta il 23 gennaio scorso del 24enne di nazionalità indiana. Dure le dichiarazioni del presidente del tribunale del malato Pino Mammoliti che rilancia ancora una volta il problema della carenza del personale sanitario o di quello posto a gettone. Comunque dice in un momento così difficile l'unità e la solidarietà della comunità sono essenziali e vanno a sostenere la famiglia colpita dalla tragedia e garantire comunque ogni sforzo proficuo per ottenere giustizia e chiarezza riguardo a questa dolorosa vicenda.